In ogni scampagnata in autentico stile calabrese, cioè quelle fatte con un'enorme quantità di cibo, c'è una pietanza che non manca quasi mai. Si tratta dell'enorme frittatone. E in questo periodo, proprio ieri ad esempio, che è stata Pasquetta, abbiamo fatto il frittatone di asparagi selvatici, visto che il momento è quello giusto. Voglio farvi vedere come lo facciamo, così se vi piace mi lasciate qualche commento e se non vi piace me lo lasciate lo stesso così me lo vado a leggere ugualmente. Colgo l'occasione per mandarvi un grande saluto dalla Calabria e vi aspetto qui in estate per trascorrere le vostre vacanze in una regione stupenda. Buona visione! Di buon mattino la braccia è stata già accesa ed è già tutto pronto per andare sulla griglia con questa bella costata di manzo, bella già precedentemente impregnata degli odori quale olio, prezzemolo, limone, rosmarino fresco e origano. Così piano piano avrà tutto il tempo di cuocere lentamente. Nel frattempo però ci dedichiamo, come vi dicevo all'inizio, al frittatone di Pasquetta. Il frittatone che viene fatto rigorosamente, proprio in questo periodo, con gli asparagi freschi selvatici, che senza neanche star lì a precisare, non hanno nulla a che vedere con gli asparagi coltivati. Come si preparano? Molto molto semplice. Si prende ogni asparago e si comincia a rompere dalla punta tutta la parte tenera. Quando invece arriviamo verso il gambo, alla parte più legnosa e più secca, ci fermiamo e togliamo da mezzo la parte dura. Dobbiamo prendere soltanto la parte tenera, che sta nella cima, fino a più o meno metà. Però va fatto uno per uno, perché così vi rendete conto con le mani della parte che ci servirà. Poi facciamo una sciacquata sotto acqua fresca e con un occhio sempre alla griglia, ogni tanto andiamo a fare la benedizione sulla carne. Andiamo ad indingere con aceto, olio e limone sulla carne, con questo bel fascio di rosmarino fresco, così durante la cottura prende ancora più profumo. Però continuiamo con la preparazione della frittata. In una padella antiaderente andiamo a mettere un fondo di olio extravergine di oliva. Qui abbiamo già aperto 12 uova, abbiamo aggiunto del formaggio pecorino e poi una bella mangiata di pepe nero macinato al momento. Diamo una bella girata e nel frattempo andiamo ad aggiungere anche un paio di belle fette doppie di provola silana, così poi si scioglierà in mezzo e che ve lo dico a fare ragazzi. Ci sta da Dio, è uno spettacolo, la provola silana ovviamente la trovate disponibile sul nostro sito sfizidicalabria.com insieme a tutti gli altri prodotti. Andiamo ad aggiungere gli asparagi nell'olio ben caldo e li lasciamo andare giusto 3 o 4 minuti. Andiamo ad aggiustare di sale e poi mettiamo il coperchio. Non appena saranno belli ammorbiditi ancor più possiamo toglierli dal fuoco e li andiamo ad aggiungere alle uova sbattute. Mettiamo tutto, anche l'olio, il sughetto, tutto quello che c'è nella padella va all'interno nelle uova. Uova fresche, non fresche, freschissime. Le nostre galline ce le hanno fatte apposta per la frittatona della Pasquetta. È importante che le uova siano di qualità. Nella stessa padella dove abbiamo fatto gli asparagi andiamo nuovamente a scaldare una base di olio extravergine di oliva. Non appena è caldo andiamo a svuotare tutto il composto delle uova e con gli asparagi e la provola silana all'interno. Adesso la massima attenzione che dovete avere per una buona frittata innanzitutto dovete smuoverla in modo che l'uovo penetri in ogni parte e poi deve fare a fuoco lento. Questo è importante perché soprattutto quando sono frittate importanti con molte uova devono avere le uova il tempo di cuocersi dolcemente. Vedete? Dopo un po' che si era rappresa, l'abbiamo girata, tranquillamente già si vede la cottura e nel frattempo che finisce di cuocere i salumi possono mai mancare in una scampagnata? Possono mai mancare le eccellenze dei salumi calabresi? Assolutamente no! Anche perché ci accompagnano durante tutto il pranzo per cui fungono da antipasto, da secondo piatto, da contorno, da post dolce, da pre dolce. Il salame a tavola ci deve stare sempre, un po' come il vino. Poi uno o lo mangia o non lo mangia, a tavola ci devono stare. Questa è una bella soppressata, guardate che bel colore, con la giusta quantità di grasso. Poi andiamo a tagliare anche una bella salsiccia. La soppressata vedete che ha una fetta più schiacciata. E questa invece è la salsiccia, sempre rossa. Vedete sempre i salumi calabresi rossi, ma ciò non vuol dire che siano per forza piccanti. Sono rossi invece perché nell'impasto noi aggiungiamo polvere di peperone rosso dolce e anche la conserva di peperone che viene preparata nei mesi estivi proprio bollendo i peperoni freschi. E se volete, sempre nel mio canale, c'è il video con tutto il procedimento. Così se vi volete cimentare sia a fare i salumi che anche ad avere i giusti ingredienti potete fare riferimento ai miei video oppure li trovate disponibili nel nostro negozio online. Ma neanche la lasagna alla calabrese può mancare, con l'uovo sodo, le polpettine. Però questa magari la approfondiremo in un altro video se vi farà piacere. Ed ecco la frittata, bella, colorata, con questo bel giallo e poi il profumo che fanno gli asparagi selvatici, ragazzi. Che ve lo dico a fare? L'andiamo a tagliare così, una fettina ciascuno. Il problema è che non rimane quasi mai, ma se dovesse rimanere in una bella fetta di pane il giorno dopo, guardate che spettacolo, è una favola esquisita e finalmente arriva anche il momento più atteso dal piccolo Pietro, l'apertura del suo ovetto pasquale. Con un'estrema delicatezza, con un paio di martellate, inizia la rottura di questo uovo. Però la sua curiosità, come tutti i bambini, siamo stati tutti bambini, non è la curiosità di mangiare il cioccolato come era anche per noi in altri tempi. La sua curiosità è soltanto vedere la sorpresa. Poi il cioccolato, se c'è o non c'è, arriva in secondo tempo. Mentre lui si aspettava dentro un bel giocattolo, ha trovato all'interno, anche se un'utilissima, sveglia. Così la mattina, quando deve andare a scuola, è sempre bello pimpante e si ricorderà con dolcezza del suo uovo di Pasqua. Colgo l'occasione, con questo fine video, di farvi, anche se è passato, gli auguri di una buona e serena Pasqua, che sia una Pasqua di pace. Non dobbiamo pensare al cibo, ma la prima cosa è la pace e la serenità. Grazie. 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 Grazie.